È stata una sorpresa perché comunque è stata la mia prima gara in nazionale, ero consapevole di poter far bene, di essere all'altezza di questa gara, però non me l'aspettavo di arrivare fino alla medaglia. Agnese Zucco, 18 anni di forza, tenacia e determinazione, racconta così il brillante exploit di Gaia Kill, dove lo scorso 11 agosto ha ottenuto una straordinaria medaglia di bronzo nella categoria 63 kg dei mondiali di judo e juniores. Una passione, quella per il tatami, nata in tenera età nelle palestre feltrine e sfociata poi in una scelta di vita che l'ha portata oramai da tre anni a vivere nella capitale. Ho iniziato a praticare judo a sette anni all'Equipe Feltri 2007, poi all'età di 15 anni mi sono trasferita a Roma in un'altra palestra più grande e sono lì da tre anni. Mi alleno appunto al fitness club Nuova Florida. Agnese riesce a coniugare perfettamente attività sportiva agonistica e studio, tanto da aver conseguito la maturità presso il liceo scientifico sportivo di Roma con il massimo dei voti. Merito forse anche di quanto le hanno insegnato questi anni sul tatami. Penso che il judo dia disciplina e insegni il controllo dell'emozione, del proprio corpo in qualsiasi situazione. L'educazione e il rispetto mi sono stati insegnati sempre a casa quando sono piccola, però col judo ho imparato a metterla in pratica e mi hanno insegnato tanto. Cintura nera secondo Dan, Agnese ha intrapreso tra l'altro il percorso da aspirante allenatrice e guarda già il prossimo impegno. A metà settembre, ovvero dietro l'angolo, ci sono i campionati europei a Praga.